Siamo, come hai detto tu, vigili sul territorio perché crediamo molto che in questa regione ci siano bambini bravi ma ci siano anche società che lavorano bene, con passione, con tanta voglia di fare. E noi molto modestamente cerchiamo di essere un punto di riferimento che può aiutarli a crescere proprio perché questa unione possa portare poi alla fine un servizio migliore ai bambini, alle famiglie ma soprattutto una formazione diversa anche ai tecnici perché sono loro poi che lavorano con i bambini. Con Pescara che è pronto anche dal punto di vista strutturale abbiamo sentito gli otto campi, l'hotel e quant'altro ma questa partnership come si svilupperà, come gestirete la collaborazione anche per la crescita dei bambini che poi diventeranno i calciatori del domani? Allora proprio l'idea di andare da loro è quella di non far spostare le famiglie perché i bambini devono studiare, non devono essere illusi già da piccoli che magari il Pescara li può prendere a 10 anni, 11 anni, poi magari a 14 anni non mantengono determinate promesse. Quindi andiamo noi da loro e cerchiamo di creare dei circuiti di perfezionamento rispetto alle attitudini e alle capacità dei bambini quindi dare a ogni bambino il giusto livello di formazione. Oggi le scuole calcio non lo possono fare perché hanno di solito dei gruppi disomogenei quindi hanno magari 20 bambini bravi e 80 che invece vanno lì solo per attività ricreative come è giusto che sia. Quindi su quei 20 bambini bravi cercare insieme alle altre società di farli allenare insieme durante la settimana con i nostri tecnici per vedere il livello di sviluppo e di lavoro che si sta facendo. Quindi avere anche proprio sul territorio la presenza dei tecnici del Pescara. Dopodiché se ci saranno i presupposti verranno magari qui. Bravissimo. Poi di questo circuito di perfezionamento magari noi li porteremo insieme a fare dei tornei con noi e quindi vedremo anche il livello di confronto ma ripeto tenendoli a casa loro senza creare illusioni, senza creare in maniera che il bambino a 14 anni quando lo potremo prendere saremo sicuri che sarà un bambino che ha delle attitudini importanti.